Ciao, sono Andrea Maggini e questo è il mio nuovo album, Oltre. Cominciamo a conoscerlo assieme. Alla traccia numero 1 trovate Nuvola Rosa, una canzone che ho scritto per la persona che amo. Alla numero 2 invece, Ma Sì. Ma Sì, bellissimo, lasciarsi svelire di te. Ma Sì, bellissimo, sento un coraggio di sole che viene dal cuore. Alla 3 invece, una canzone dedicata ad un bambino speciale, Joseph. La canzone si intitola Stella Cadente. Perché se vuoi l'amore devi essere poesia, ed io ne ho scritta una, il foglio è la vita mia. Ho disegnato storie con il sogno di incantare, e adesso voglio vivere per poterle raccontare. Perché gli altri bambini loro possono giocare, ma io sono speciale, e devo lottare per rimanere vivo, e continuare a fare quello per cui sono nato, insegnare amore. Altra traccia, altro brano. Stavolta è una storia, la storia del pittore Giosè. E' sofferto da me, e ho volato se sopra di cose, lasciando sento tutta l'ipocrisia, ed ho voluto volar via per amore, via dalla gabbia di questa malattia. Ed allora, Signore, ti prego, tanto ormai sono già qua. Anche se non ho l'appuntamento, fammi entrare e volare con te. E dalla 5 si sale decisamente di ritmo, con il grande affabulatore. Io sono quello che vuoi, tu chiedi e io mi trasformo. Ed ancora un'altra storia alla numero 6, la storia di due ragazzi innamorati, la storia di Luca e Cati. Luca, prendigli la mano, portala lontano, verso la poesia. Luca, non aver paura, questa è una magia, o forse è una follia. Katia, prendigli la mano, portala lontano, verso la poesia. Katia, non aver paura, questa è una magia, o forse è una follia. Alla numero 7 invece un omaggio, un omaggio alla mia terra, la Maremma. Con un canto che è un po' l'inno della Maremma, di una volta. Maremma Amara. Sempre mi trema il cor, quando ci vai Per la paura che non torni mai Ed ecco a voi la numero 8, l'ultimo pezzo di Oltre, del mio nuovo album. Si intitola Un pezzo di sé. Insegui i tuoi sogni anche se non li realizzerai Ricordati che sono l'unica cosa che hai Ricordati che l'unica arte che devi imparare È il mestiere di essere persona nel bene e nel male Grazie. 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 Grazie a tutti